Opposizione che non digerisce l'approvazione del Consiglio Comunale di Torino di Sangro di alienare un terreno abusivamente occupato dalla container SAS, titolare dell'hotel Costa Lecce, al fine di avere i requisiti per adibire la struttura centro di accoglienza straordinario per immigrati in località Borgata Marina, struttura ancora attiva sul territorio. Un terreno che nel marzo 2015 fu occupato abusivamente per l'installazione di un serbatoio del gas per garantire acqua calda e riscaldamento alla struttura, conseguente rifiuto della società che gestisce Costa Lecce, di regolarizzare poi l'occupazione alla modica cifra di 300 euro mensili. Del resto lo Stato erogava ed eroga 35 euro al giorno per immigrato. L'ex sindaco Silvana Priori tuona all'ingiustizia puntando il dito contro i voti della sola maggioranza dell'amministrazione di Fonso che hanno approvato la vendita e per soli 8 mila euro senza richiedere un giusto indennizio per la pregressa occupazione abusiva o concordare un'indennità per indebito arricchimento. Qualcosa insomma non quadra. Questo terreno è funzionale alla Via Verde perché consente o la facile salita e discesa dalla pista ciclabile o quantomeno consente anche lo svolgimento di un'attività turistico recettiva una bicofficina, una affitta bici. Quindi perché privarci di un bene pubblico importante per il nostro territorio e per la nostra comunità, dando la vinta a chi ha violato la legge ha violato la proprietà comunale e il sindaco si è giustificato dicendo che loro non vogliono fare causa è una causa vinta perché non c'è, sono consapevole che non c'è l'obbligo del comune di vendere agli occupanti abusivi e per di più non hanno neanche previsto un eco indennizio per l'occupazione abusiva quindi dalla serie se avessero pagato l'affitto avrebbero pagato molto di più di quello del prezzo di vendita che pagheranno 8 mila euro, penso che chiunque di noi vorrebbe acquistare questo terreno. Ma ripeto, la cosa triste è che domani chiunque vuole un terreno comunale si installa lì con una bella sedia a sdraio, occupa abusivamente, se ne infisca del rispetto delle regole della proprietà altrui, tanto domani fa causa al comune e per transare chiede la vendita il comune glielo vende gratuitamente.